Non solo il ridisegno e il riordino degli spazi sotto il profilo urbanistico, ma una vera e propria rivitalizzazione degli spazi in collaborazione con grandi stazioni, proprietarie di numerose aree e interessate a sviluppare un comparto commerciale. È il progetto, pensato da Palazzo Marino, per la riqualificazione della stazione centrale, che troverà attuazione dopo la stesura di un preliminare, al quale si sta già lavorando. Ad essere interessato dal maxi intervento sarà soprattutto l'asse da Cagliazzo a piazza Luigi di Savoia, tralasciando invece piazza Duca d'Aosta e piazza 4 Novembre, dove sono già stati fatti diversi interventi migliorativi nel corso della passata legislatura. Carmela Rozza, assessora alla sicurezza del Comune di Milano, butta lo sguardo anche a via Vittorio Pisani, che potrebbe contribuire ampiamente al miglioramento della zona. Deve diventare una strada di movida, auspica. Quei grandi marciapiedi bellissimi vanno vissuti. Adesso i locali non presidiano lo spazio esterno, che invece va assolutamente rivitalizzato. Dopo le 19.30, 20, sono pochissimi gli esercizi che restano aperti. Ora il periodo ferragostano costringe ad una pausa forzata, ma subito dopo si svolgerà un incontro anche con grandi stazioni per definire il progetto. Si tratta per i condomini di Palazzo Marino di un segnale forte su un progetto simbolo dell'impegno del Comune su tutta l'area, sul crocevia di turisti, lavoratori e migranti, ma anche su un quartiere centrale, sempre più spesso alla ribalta delle cronaca per problemi di sicurezza.